Buonasera gentile pubblico, torna diario di bordo che ospita questa sera Stefani, buonasera, grazie. Buonasera Antonio, grazie, grazie a voi. Fabrizio Serra, grazie. Buonasera. Benvenuto anche a lei. Allora Fabrizio Serra ha firmato l'ultimo videoclip di Stefani, che noi tra un momento andiamo a vedere, quindi questo un connubio artistico nuovo che appunto ha dato poi vita a questo videoclip di uno dei brani del tuo ultimo, si dice ancora LP o CD meglio, naturalmente. Allora prima di parlarne vediamo insieme questo videoclip e poi lo commentiamo e poi magari ci fate anche sentire. Grazie a tutti. 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 Electricity is coming out Burning and carried by the wind Leading me into a parallel universe Where I'm alone but naturally at least My body is a song The sound of the world Is spoken through my voice Vibrations in the air Electricity is coming out Burning and carried by the wind Leading me into a parallel universe Where I'm alone but naturally at least Escape and prejudice and loss of faith Disappointment and judgment I dream of riding the ocean waves Follow my dream Follow the dream Allora come è nata l'ispirazione Per questa non tanto per il cd quanto proprio per il videoclip Come è stato poi questo incontro tra di voi? Il videoclip è nato dalla mia esigenza di dare una resa di immagini a un pezzo comunque importante In quanto è dal titolo comunque all'album Quindi non solo per questo motivo ma anche perché il sogno è un po' la tematica che ricorre in tutti i miei pezzi Per cui inseguire il sogno non inteso esclusivamente come una realizzazione della mia aspirazione a essere una cantante Ma il sogno inteso come il desiderio di realizzare quello che si vuole essere A prescindere da una carriera musicale o artistica di qualsiasi genere Quindi la realizzazione di una visione di se stessi La collaborazione con Fabrizio è nata in una maniera molto semplice Io conosco Fabrizio in arte frixo Conosco i suoi lavori Apprezzo molto il taglio originale che dà Quindi comunque è stata un'idea di entrambi Quella di collaborare A me piace collaborare in generale con gli artisti Che siano cantanti o filmmaker o di altro genere Per cui a maggior ragione il fatto che sia un concittadino Insomma un mio coetaneo Ex collega La cosa bella è questo incontro di professionalità locali Esatto, sì Di talenti locali Chiediamo anche a Fabrizio Come è stato questo incontro E quindi poi qual è stata la sua personale chiave di lettura Poi di questo brano Qual è stato il tuo apporto in particolare? Diciamo che Follow the Dream Innanzitutto è una canzone che a mio parere è estremamente valida Un pezzo scritto, musicato da Andrea Terimacco E le liriche sono di Stefani È un testo secondo me ricco di suggestioni Quindi sicuramente c'è stata un'analisi preliminare del testo Molto approfondita Sicuramente Il testo, insomma L'analisi del testo mi ha lasciato sicuramente molto sorpreso Perché come anticipava Stefania Diciamo che c'è una prospettiva totalmente differente Da quella che potrebbe sembrare Diciamo associando la copertina del CD Con l'espressione Follow the Dream Cioè sembrerebbe quasi un sogno di celebrità Un desiderio Mentre invece La chiave che io ho dato E che poi è stata ben recepita anche da Stefani Era quella del sogno inteso proprio come uno sguardo Cioè una prospettiva che fornisce insomma una chiave interpretativa Proprio della realtà Infatti ci sono Oltre che diciamo essere girato in quelli che sono poi I nostri luoghi nati Quindi tra Sulmona e Pettorano C'è anche proprio Secondo me un riferimento Ben preciso a come Noi vediamo e immaginiamo una certa realtà Cioè il video fondamentalmente mette in scena dei sonnambuli E quindi questa è sicuramente una scelta molto molto precisa Insomma Senti ma il video secondo te in qualche modo Trasforma Interpreta o proprio stravolge Questo brano Ma più in generale Quando si mette mano ad una canzone per realizzare un videoclip Che cosa succede? Secondo me un video ha una efficacia complementare Rispetto a quella del brano Sicuramente aiuta il brano a vederlo da una prospettiva Da un'angolazione totalmente differente Insomma Anche perché io quando ho proposto questo Questo tipo di screenplay Sicuramente questa cosa ha lasciato molto sorpresa Insomma la stessa Stefano E questo lo chiediamo a Stefano tra un attimo Sì Insomma sicuramente Diciamo il video Dà una prospettiva insomma Molto molto specifica Ammirata Insomma Di come Una persona Un esterno Insomma Vede Interpreta La realtà E quindi diciamo Questo è Sicuramente un esperimento Che poi permette anche a chi Ha scritto il testo Insomma di avere Un'ulteriore chiave interpretativa Quindi in questo senso sicuramente La collaborazione tra autori Che vivono anche dimensioni dell'arte diverse Sicuramente qualcosa di molto profigo Insomma per entrambe le parti Anche da un punto di vista proprio musicale E filmico nello stesso tempo Quindi la forza Il valore delle immagini Che si aggiungono A questo tuo brano Ecco tu come La prima volta che l'hai visto Come l'hai trovato Che effetto ti ha fatto? Beh un effetto di stupore sicuramente Perché non ero abituata A questo tipo di regia Io ho fatto altri video in passato Che comunque anche voi Nella vostra emittente Avete trasmesso Quindi ero abituata A una regia più Diciamo tradizionale Come appunto il video di Brand New Ice Che per inciso Volevo comunicare E' entrato in concorso nel PV Quindi il premio internazionale Alle videoclip indipendenti E l'approccio di Fabrizio È completamente diverso Mi è piaciuto Proprio perché è originale Le immagini Come le ha montate Cioè anche i singoli frame Come ha concepito proprio Lo screenplay Sono molto particolari Ci tenevo a dire una cosa Che in questo video Ho coinvolto in prima persona I miei musicisti Che sono tutti Diciamo Vergini a questa cosa Cioè non hanno mai Né non hanno partecipato mai A un video Quindi non hanno mai avuto Un'esperienza di questo tipo Recitativo O comunque cinematografica Si sono Fatti coinvolgere E lui comunque Il merito è stato anche di Frixo Che comunque ci ha messo Molto a nostro agio Ci siamo divertiti tanto Alla fine siamo tutti Siamo diventati amici praticamente Quindi C'è anche tua madre nel video C'è anche mia madre Infatti Mia madre fa un piccolo cameo Alla fine del video Dove E' stato molto facile per lei Comunque Avere quell'atteggiamento Che era stato suggerito da Fabrizio Perché doveva praticamente Adottare un'espressione Di diciamo Rabbia nei miei confronti Insomma Fabrizio le dice Immagina qualche Che Stefania abbia fatto qualche Qualche cavolata Qualche birricchinata E fa un'espressione Insomma attinente Quindi mia mamma Entrata perfettamente nel personaggio Sì Senti in questi giorni Sei impegnata Anche a Milano Sì Sì è un momento importante Perché finalmente Comincio ad uscire Dal confine Della Valle Pilinia Diciamo così Con tutto il rispetto Per carità Però è giusto Che la mia musica Come la musica Di qualsiasi artista Valichi i nostri confini E sto partecipando A questa manifestazione Che si chiama La Milano Sanremo Della canzone italiana Edizione 2014 Che è una manifestazione a tappe Che coinvolgerà Si svolgerà In varie città d'Italia Abbiamo iniziato con Milano Sono tornata proprio Questa mattina da Milano E poi proseguirà Con Roma Con Firenze Bari Forlì Napoli Per cui io Se avrà un modo Parteciperò a tutte le tappe Ma non credo che riuscirò Per motivi Diciamo di vario genere Però sicuramente Sarà un'occasione Per me Per presentare i miei pezzi Perché comunque si tratta Di andare con i pezzi inediti Quindi per noi tant'autori Queste sono occasioni d'oro E' una Comunque una Sono delle puntate Che sono seguite Da cento radio italiane E infatti è organizzata Dalla Rea Per cui insomma E' parecchio pubblicizzata C'è un bel palcoscenico Si un bel palcoscenico Sicuramente Si 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 Poi chi vince? Chi vince Diciamo c'è una Si una Una rosa di cantanti Che verranno scelti Dal direttore artistico Che è un DJ Famosissimo La voce Diciamo più importante Di Radio Monte Carlo L'è stata per tanti anni Che è il direttore artistico Awanagana Che ho avuto la possibilità Di conoscere ieri Una persona simpaticissima Per cui lui sceglierà Questa rosa di artisti Che andranno a Registrare Una trasmissione Che sarà contemporanea Al festival di Sanremo In cui appunto Questi cantanti Avranno la possibilità Di comunque Presentare i propri brani Speriamo di rientrarci Certamente Comunque ricordiamo Radio Monte Carlo E' una delle corse La prima radio libera Perché anzi Doveva trasmettere Da oltre frontiera Quando non era possibile Quindi è stata Per tanti anni Il punto di riferimento E ancora oggi Da un punto di vista qualitativo È una delle radio Che trasmette In maniera indiscutibile Insomma Della ottima musica Va bene Allora noi ci prendiamo Per un momento Diamo la linea Alla regia Per la pubblicità E poi torniamo in studio E magari ci fate anche Ascoltare dal vivo Qualche momento Di questo brano A tra poco Vuoi vendere degli oggetti Che non utilizzi? Attrezzi Strumenti musicali Mobili di ogni tipo Qualunque cosa Portalo da noi Dalla valutazione Insieme a te All'esposizione E una volta venduto Ti contatteremo Per il pagamento Così liberiamo Uno spazio in casa tua O nel tuo garage Se compri o vendi Vieni a trovarci Sala espositiva dell'usato Viale dell'agricoltura Sul Mona Vicino Clinica San Raffaele Telefono 0864 25 30 76 Un mondo magico Dove trovi oggetti Davvero unici Confezioniamo E personalizziamo Con amore E professionalità Confezioni Bomboniere E articoli da regalo Per le cerimonie E le occasioni Più importanti Per un piccolo O grande regalo Fatti consigliare da Fancy Corso video 65 A Sul Mona Fancy Dove un pensiero È per sempre Le mamme felici I bambini contenti Bimbo Mania È per tutti Punto di riferimento Per le mamme In dolce attesa Intimo gestante Corredino E abiti per il battesimo Abbigliamento fino a 16 anni Da cerimonia casual 200 metri quadri Di prima infanzia Giocattoli E accessori di puericoltura Per la felicità Di mamme E i bambini Bimbo Mania Via della Repubblica 7 Sul Mona Sapete perché siamo un franchising? Perché vogliamo che la serietà professionale di Appeso d'Oro sia sotto gli occhi di tutti Compriamo oreo e argento alla massima valutazione di mercato Bilancia a vista omologata dalla Camera di Commercio Massima trasparenza e pagamento immediato in contanti Appeso d'Oro ti aspetta a Sul Mona in Viale Roosevelt 31 Lo sapevi? C'è un'azienda che lavora per te e per l'ambiente Per una casa sicura con una corretta evacuazione dei fumi prodotti dalle fonti di calore Con PM sei sicura? Sicura degli oltre 60 anni di esperienza nel settore dei gomignoli e delle canne fumarie Che ne hanno fatto un bidet a livello europeo In termini di innovazione, tecnologia e design PM Con te Con l'ambiente in cui vivi Maternatura Centro materno infantile Fiore all'occhiello della realtà abruzzese Che oltre alla vendita di prodotti di altissima qualità Mette a disposizione personale altamente qualificato Che vi garantisce un reale sostegno nel periodo più bello della vostra vita Tramite corsi di formazione e consulenze private Per tutelare una genitorialità a contatto ed eco-compatibile Maternatura Via Cappuccini 62 Sul Mona Allora, tutto pronto qui in studio con Fabrizio e Stefani Che regalano ai telespettatori di Diario di Bordo e di Onda TV Follow the Dream dal vivo Escaping prejudice and loss of faith Disappointment and judgment Dream of riding the ocean waves Climbing the hired mountain I'm the world where I live in trees and leaves Falling and carried by the wind Leading me into a parallel universe Where I'm alone but naturally batted My body's a song The sound of the world is spoken through my voice The sound of the world is spoken through my voice Vibrations in the air Electricity is coming through my voice Electricity is coming up Electricity is coming up Burning and carried by the wind Leading me into a parallel universe Where I'm alone but naturally batted Where I'm alone but naturally batted Escaping prejudice and loss of faith Disappointment and judgment I dream of riding the ocean waves Follow my dreams Bene, ci sarebbe un applauso virtuale che adesso Idealmente i nostri Lo immaginiamo Vi hanno tributato, allora regista ma anche musicista Sì Quindi è una doppia veste Doppia veste, sì Beh, fino adesso diciamo La competenza musicale è fondamentale Diciamo che è un'esperienza della composizione Che sicuramente è fondamentale Anche per vedere la cosa, un'altra prospettiva Cioè il musicista è anche attento a questi aspetti Insomma durante la realizzazione di un video E quindi avere anche questo tipo di approccio Che non è solo quello del videomaker Ma anche del musicista è sicuramente qualcosa che permette Insomma di capire meglio il da farsi Insomma è sicuramente un valore aggiunto Senti, però pensavo nel frattempo che per radio Certamente il video non si può vedere Quindi lì bisogna veramente, come dire, avere l'impatto poi del brano Della musica e delle parole Quindi certamente bisogna piuttosto, come dire, puntare sulla tv per il videoclip Sì, sì Quindi bisogna pensare a qualche altro concorso Qualche altra esperienza dove lanciarsi Sì, in effetti questa è una cosa importante Ultimamente ho sempre fatto comunque partecipazioni a trasmissioni in cui si canta dal vivo Per cui non è che danno molto rilievo i videoclip devo dire Solo la onda tv puoi mandare i videoclip a fare la musica dal vivo Sì, sì, voi ci date il pacchetto completo Vi ringraziamo per questo Per cui sì, bisognerebbe sì trovare dei canali A parte i classici Insomma i canali di YouTube, Facebook Quelli che sono un po' i nostri Poi alla fine più che canali ufficiali di manifestazione Questo per la riflessione Per fare una riflessione per dire che comunque la radio non è morta Vabbè lo diceva qualcuno Qualcuno prima di noi lo canta però Insomma è uno strumento ancora importante Sì, ah, lamentare, certo Prattutto per la musica Vogliamo per chiudere fare proprio un giro d'orizzonte Invece sulla situazione dei giovani cantautori della musica in Valle Peligna Qual è lo stato di saluto poi in generale? Beh, diciamo che comunque sia Oggi insomma una prospettiva totalmente differente Da quella insomma di 10-15 anni fa Perché sappiamo che comunque la tecnologia sicuramente ha rappresentato Un cambio di prospettiva Perché oggi la musica insomma è fluibile In un modo sicuramente molto più massivo e globalizzato Anche direi che ci sono degli strumenti insomma Che permettono a chiunque oggi di produrre musica E di prodursela Quindi in un modo anche direi estremamente professionale Questo forse un po' ha tolto il valore della spontaneità insomma Noi forse anche per questo abbiamo deciso di fare questo pezzo Sia perché a me insomma piace fare anche delle versioni un po' diverse Insomma molto più spontanee Diciamo dei pezzi così come vengono rappresentati nei miei video Ma anche perché secondo me insomma La musica dal vivo deve riacquistare diciamo anche una sua centralità Insomma nel discorso artistico Che altrimenti E credo che infatti i concerti oggi Sia diciamo da un punto di vista come dire Retributivo per gli artisti Rappresentano forse la fonte primaria diciamo Di sostentamento oggi di un artista Però secondo me anche Insomma rappresentano probabilmente Il vero banco di prova dove si misura poi effettivamente la qualità artistica Un po' invertito perché prima si vendevano molti dischi E il concerto si faceva per lanciare i dischi Oggi è certo con questi nuovi strumenti La musica si diffonde facilmente Ma così come si diffonde è tutto gratuito alla fine se vogliamo Si può scaricare Si può addirittura scegliere di dimettere su Facebook Su YouTube e via discorrendo Certo e quindi il momento del concerto Che è tornato centrale Insomma nella carriera degli artisti Si sicuramente Il concerto è un banco di prova E' il momento in cui si crea La comunione comunque tra l'artista E poi dovrebbe emergere la qualità Al di là dei playback C'è delle basi Lì deve venire fuori poi Il talento, lo spessore Si si Comunque la capacità comunicativa dell'artista Insomma sono fondamentali i banchi di prova sicuramente Ma poi sono degli stimoli per noi I concerti I talent Chiudiamo veramente con questo? Talent Guarda c'è un talent che a me piace tantissimo Che se ci riesco quest'anno Veramente ci partecipo Se ovviamente ci mi ammetteranno Che The Voice of Italy Credo veramente che sia il talent più azzeccato E' più giusto per chi ecco magari esteticamente non risponde a dei canoni Che sono quelli diciamo soliti Parlando appunto di videoclip Sappiamo bene che la maggior parte delle artiste Soprattutto le donne Anche gli uomini Soprattutto le donne Devevano sempre rispondere a questo canone Della bella donna Oltre ad avere la bella voce Deve essere anche bella Però insomma voglio dire E' importante anche dare rilievo Soprattutto la voce Abbiamo un esempio di un'artista che io adoro Che è Adele Che insomma esteticamente non è proprio Non ha i canoni tipici della donna Della fan fatale Però ha una voce che ha una sensualità incredibile Per cui mi piace molto quel talent Sì quello molto probabilmente lo farò Vabbè allora incrociamo l'invento Speriamo Allora va bene noi dobbiamo concludere Io ringrazio Fabrizio Serra Grazie Grazie a voi naturalmente per la tua attività E Stefani Grazie mille In attesa di ecco Il talent Sì Sì Va bene grazie anche al nostro pubblico Appuntamento su Onda TV Con Diario di Bordo Buonasera da tutti Grazie a tutti